www.containerradio.it Come un giorno quando arriviamo a quest'ora del nostro pomeriggio qui a Container Radio arriva il momento in cui andiamo a scoprire meglio uno dei brani che stiamo ascoltando spesso in programmazione in questo periodo Oggi parliamo, iniziamo parlando di un brano ma parliamo di un cofanetto molto importante che è uscito proprio in questi giorni e lo faremo veramente con una persona speciale perché devo dire è bellissimo ritrovare qui con noi quest'oggi Giovanni Muti Grazie Andrea, grazie di avermi ospitato È veramente un piacere ritrovarti qui a Container Radio per parlare di questo cofanetto veramente imponente come ti dicevo anche prima in privato mentre ci stavamo preparando un po' per l'intervista Accarezzami musica il canzoniere di Alda Merini È imponente perché c'è tutta la mia vita qua dentro quindi ci sono 20 anni quasi di collaborazione con Alda Merini 20 anni vissuti intensamente anche perché Alda diceva che per musicare un poeta bisogna viverlo nella quotidianità ed è quello che io ho fatto e poi la cosa meravigliosa che abbiamo passato 16 anni è proprio scrivere canzoni senza preoccuparci se poi sarebbero potute essere pubblicate, divulgate noi lo facevamo proprio per la gioia di scrivere Alda mi dettava le poesie appositamente per la musica io le musicavo e quindi c'è stata sempre questa grande gioia di trasmettere la poesia, la sua poesia, quella più commovente che parla anche degli anni del manicomio in cui Alda ha trascorso molti anni e poi l'allegria di Alda tu mi hai parlato prima del mio amore quattro gatti di questo brano che io ho inciso con Renzo Arbore e c'è proprio la sua parte, quella del bambino che si diverte perché come sappiamo dobbiamo tutti coltivare questa parte interiore nostra che è quella che ci salva poi alla fine è il bambino che abbiamo dentro assolutamente, noi in questi giorni veramente stiamo ascoltando e proponendo spesso il mio amore a quattro gatti questo duetto con te e il grande Renzo Arbore devo dire che è bello sentire proprio l'inizio proprio con la voce della grande Alda Marini sì, sì, ci sono tanti brani in cui c'è la sua voce recitante a pare che se mi fai dire questo canzoniere contiene 6 cd più il dvd del poema della croce che è l'opera sacra che abbiamo scritto assieme ai testi o alle musiche che abbiamo rappresentato nel Duomo di Milano quindi Alda Marini è attrice nel ruolo di Maria quindi è una cosa veramente straordinaria che dopo anni finalmente è uscito in dvd bellissimo, bellissimo veramente so che tra l'altro ci sono anche 13 tracce inediti 13 brani inediti e 21 brani con la voce recitante di Alda Marini tantissimi duetti con 29 artisti ospiti con 29 artisti meravigliosi perché non solo di talento ma di cuore quindi sai le due cose non vanno mai sempre di pari passo mentre in questo caso devo dire grande generosità grande amore per Alda Marini e anche per le mie musiche quindi ho duettato con 29 artisti due ci hanno lasciato Daniela Desi lo scorso anno più grande soprano italiano nel mondo e Mariangela Melato però mi hanno lasciato questa grande loro voce e poi tantissimi altri artisti se ne li fai citare alcuni da Simone Cristicchi a Grazie di Michele a Enrico Ruggeri a Eugenio Finardi a Rita Pavone a Omar Pedrini Lina Sastri Gigi Poglietti Daniela Poggi Enzo Gragnianello Ferradini spero di non dimenticarne altri si Camariere l'ho detto Sergio Camariere Armiliato il grande tenore il compagno di Daniela Desi Peppe Barra Alessio Boni l'attore perché ho unito anche il mondo della musica e il mondo del teatro e del cinema Lucia Bosè con la quale ho già collaborato per molto tempo molto tempo in Scaminarini la grande voce di Lucio Dalla Dario Gai Andrea Mirò insomma che dirti sono veramente felice e lascio per ultima quella che con la quale io ho iniziato questo grande percorso che è Milba e ho un inedito appunto con la voce indimenticabile straordinaria di Milba bellissimo devo dire e qui ti chiedo anche come è stato lavorare con loro fare questi duetti e come è stato interpretare proprio le canzoni di Alda Murillo ma guarda io sono andato come dire a istinto mi sono sempre consultato con Alda perché io sono sento porto avanti da quando mia madre e mio fratello sono andati nella stanza accanto io ho scoperto ho avuto la consapevolezza anche se la avevo già anche prima una volta che tu vieni a contatto con chiamiamola morte proprio e ti cambia tutto e ho scoperto che la vita non finisce perché li ho ritrovati li sto ritrovando e quindi anche il mio rapporto con Alda Merini continua nonostante lei sia in un'altra dimensione e io le parlo e mi arrivano i suoi messaggi e quindi la scelta che ho fatto anche sui brani la li abbiamo fatta assieme sembrerà una cosa come dire strana però è così io la sento molto e devo dire che non abbiamo mai sbagliato quindi il brano che ho presentato ad ognuno degli artisti era il brano che poi era perfetto bellissimo bellissimo veramente devo dire Giovanni è un confanetto assolutamente da avere un confanetto che è stato tra l'altro presentato in tre serate che bello se me lo fai dire sono stati tre successi sorprendenti perché questa grande affluenza di pubblico a Milano al Teatro Dal Verne a Roma al Sistina e a Bologna al Teatro Duse con Monica Guerritore che tra l'altro è all'interno del disco dei duetti e con la quale io porto in giro per Italia da tre anni mentre rubavo la vita lo spettacolo con le nostre canzoni in cui c'è appunto una Monica Guerritore al mio fianco straordinaria cantante veramente emozionante bellissimo poi tra l'altro so che durante le serate hanno partecipato anche tanti artisti che hanno duettato con te e ogni serata poi tra l'altro è stata dedicata a favore di un ente benefico ecco se sì a Milano per il City Angel e a Roma e Bologna per i rifugiati quindi c'è stato anche questo risvolto benefico appunto ritornando al canzoniere di Alda Merini raccontaci un po' anche i vari CD che possiamo trovare all'interno Giovanni di molti abbiamo già parlato anche durante questi anni con le nostre interviste questa volta sono veramente riuniti tutti insieme sono riuniti tutti da rasoio di seta a una piccola pe furibonda al disco che ho fatto in spagnolo con la traduzione di Lucia Bosè in castigliano delle poesie della Merini una piccina back and forth e quindi anche questo che si troverà solo online mentre invece adesso è proprio all'interno del cofanetto bello bello 114 canzoni quindi tutte assolutamente da ascoltare io ti chiedo Giovanni lo so è una domanda che non si dovrebbe mai fare perché comunque ogni brano sicuramente ce l'hai nel cuore ma c'è una canzone magari a cui sei più legato ecco è una domanda a cui faccio molta fatica a rispondere perché ogni canzone mi ricorda il momento in cui l'abbiamo scritta quindi sono tutti momenti indimenticabili ti posso dire solo perché non è più in questa dimensione di Daniela Desi che quando musicato Genesi che è una delle poesie più belle di Aldamerini veramente considerata il capolavoro assoluto e io quando l'ho musicata non mi rendevo conto di musicare una delle più belle poesie di Aldamerini se no non ce l'avrei fatta e mi è uscita una musica devo dire grazie a Dio bella e l'ho presentata perché sentivo la voce di duettare con una voce di soprano e quando la presentai a Daniela Desi le mandai il provino e lei poi mi chiamava dicendomi come posso dirti di no di fronte a una cosa così bella fantastico quindi ecco queste sono delle cose che non dimentico beh devi avere passato degli anni Giovanni con Aldamerini lavorandoci insieme esaltanti credo deve essere stata beh sì perché Aldamerini ha tutte le sfumature della vita allora come lei diceva che non si era fatta mancare niente e che aveva gustato anche l'inferno e quindi fai conto una giornata con lei andavi a sfiorare tutti i colori che possono esistere quindi dalla gioia dalla semplicità dalla rabbia ecco non ci facevamo mancare nulla io so tra l'altro che nel cofaneto c'è anche un volume di 96 pagine con tutti i testi quattro poesie inediti e anche due disegni autografati proprio da Aldamerini foto foto d'archivio certo certo sì sì mi ha fatto anche il ritratto divertendosi molto e quindi poi c'è anche un angelo dipinto da lei quindi sono delle cose preziose proprio devo dire che sono cose preziose poi ci sono anche degli scritti io le ringrazio perché hanno scritto delle cose stupende da Vincenzo Mollica a Massimo Cotto e anche Cardinal Gianfranco Ravasi bellissimo Giovanni allora abbiamo parlato delle tre serate di presentazione per quanto riguarda cofaneto per chi non avesse potuto partecipare per chi le avesse purtroppo perse ci saranno altre serate prossimamente magari sì sì anche perché come ti ho detto sono stati dei grandi successi e adesso probabilmente anzi sono certo che si ripeteranno adesso non ho le date però c'è proprio questo oggetto di riproporle molto bene quindi resteremo poi informati poi ti chiederò come sempre anche i vari contatti sui social sui vari canali social ho molto piacere Andrea nel frattempo Giovanni proseguono anche le serate insieme con Monica Guerritore quindi volevo un po' chiederti che cosa stai preparando poi per questa stagione fredda dove ti potremmo trovare dunque allora come tu saprai è un cofanetto come hai visto un cofanetto molto importante che necessita proprio di essere divulgato nel modo più grande quindi io mi presto sotto tutti gli aspetti televisioni radio stampa quindi è molto importante che ringrazio te tutti coloro che amplificano che amplificheranno questo questa notizia che esiste il cofanetto a carezza di musica perché penso che sia molto importante Aldamerin diceva che le nostre canzoni sono la carne dell'anima quindi un qualcosa che può aiutare a stare meglio perché la bellezza diceva Aldamerini aiuta a vivere e quindi come dire allevia le sofferenze in un momento come questo dove c'è poco cibo spirituale non è tutto usa e getta ecco questo invece è qualcosa che rimane è vero e io devo dire che non solo io ma anche tante persone che conosco spesso si trova anche molto conforto all'interno proprio delle poesie di Aldamerini ma sì che come accade a me quando io leggo una poesia di Aldamerini mi sento subito meglio perché cambia il nostro stato di energia le nostre vibrazioni si alzano succede quando abbiamo notizie di tragedie si abbassano le nostre frequenze e ci allineiamo alla paura al dolore invece quando sentiamo le cose belle ce ne sono poche purtroppo se accendi la televisione abbiamo solo notizie negative perché la paura come sai fa audience mentre invece dovrebbero esserci notizie di cose belle perché nella vita ci sono anche tante cose belle e non c'è solo la paura è vero è vero ce n'è veramente bisogno quindi ben venga questo cofanetto che devo dire ci porta veramente del cibo spirituale lo possiamo tranquillamente dire Giovanni ma io direi di sì non tanto per le mie musiche perché sarei assurdo dirlo io però per l'alta poesia di Aldamerini Kenio Morricone dice che è Dante Alighieri dei nostri tempi quindi io ho avuto questa grande fortuna di musicare i suoi testi Aldamerini diceva che era un incontro destinato quindi come dire io accetto e ringrazio per questa grande fortuna perché è veramente una cosa rarissima poter musicare testi così importanti è bello perché si dice Giovanni le cose non succedono per caso evidentemente di fatti era quello che diceva Aldamerini quando le chiedevano come mai ha scelto Nuti e lei rispondeva perché era destinato quindi bellissimo Giovanni noi tra un attimo andremo ad ascoltare il pezzo che stiamo proponendo in questi giorni con il duetto con Renzo Arboro e Mio Amore a Quattro Gatti però volevo chiederti prima come fare per rimanere in contatto con te i vari canali social su internet sì ma io sono chiaramente come tutti ormai su Facebook con tre pagine più in Italia ci sono vari gruppi che si chiamano una piccola appe furibonda da un aforisma di Aldamerini sono gruppi per sostenere il nostro matrimonio artistico perché Aldamerini diceva che il nostro lo riteneva un matrimonio artistico quindi Aldamerini Giovanni Nuti una piccola per furibonda ci sono tanti gruppi in Italia su Facebook e quindi la gente può iscriversi può avere tutte le notizie che trova appunto molto bene e poi restare informati anche sulle varie serate non veniamo l'ora di poter venire a trovarti anche dal vivo anche dai nostri parte Giovanni assolutamente io ci conto molto perché tu sai che il mio primo album al parco del silenzio l'ho registrato proprio da voi quindi diciamo che l'inizio è stato partito dal Veneto Giovanni a questo punto andiamo ad ascoltare Il mio amore ai quattro gatti però vorrei che fossi proprio tu ad annunciarlo con un saluto per i nostri amici in ascolto come no allora questa come ho detto prima è un duetto che ho fatto con Renzo Arbore c'è la voce recitante anche di Aldamerini ed è la parte giocosa di Aldamerini perché diceva che appunto la parte del fanciullo deve essere attivata ogni giorno quindi ogni giorno ci dobbiamo collegare con le cose piccole con le cose semplici con le cose che ci portano gioia il mio amore ai quattro gatti grazie a tutti i radioascoltatori grazie a te Andrea di avermi ospitato spero a presto un caro saluto a prestissimo Giovanni grazie Andrea